buona giornata amici di border nights oggi siamo qui per presentare un appuntamento che vuole ricordare un ricercatore per il quale abbiamo fin da subito nutrito un grandissimo affetto Luciano Pedersoli che è stato eh l'anima possiamo dire anche se il progetto Evalab continua di questo progetto che in modo scientifico eh ha voluto indagare i fenomeni del love e l'out of body experience abbiamo fatto bellissime chiacchierate che trovate sul nostro canale il eh dottor Pedersoli purtroppo è venuto a mancare negli ultimi anni ne abbiamo parlato con Maria Grazia Evangelista che è stata al fianco fino alla fine che oggi porta avanti eh quello che è il suo percorso allora Maria Grazia benvenuta. Grazie buongiorno a te Fabio e a tutti gli ascoltatori. Allora raccontaci intanto prima di parlare del convegno chi era Luciano. Beh sto scrivendo un libro su chi era Luciano sui suoi studi che eh come sai sono cominciati da quando addirittura aveva otto anni diciamo gli studi no ma l'interesse per eh questi fenomeni e per tutta la vita lui l'ha portati avanti eh studiando indagando approfondendo e divulgando perché questo va beh lui chiaramente era anche un docente era stato un docente di elettronica e quindi veniva da una famiglia il padre preside lo zio professore di filosofia teoretica quindi era abituato anche alla divulgazione ma in questo ci ha messo l'anima infatti quello che tutti li riconoscono non soltanto le eh competenze vastissime in tanti settori non soltanto in quello suo specifico dell'elettronica della meccanica della fisica eh ma proprio il desiderio di comunicare di trasmettere quello che lui diceva io ho eh imparato in tanti anni di studio di sacrificio a chi insomma vuole ascoltarmi quindi un grande uomo eh e io non lo dico perché ora non c'è più ma perché veramente lo è stato quindi ripeto insomma ci sarebbe tantissimo da dire e sto preparando questo libro perché ci sarà una conferenza con altre tre eh che purtroppo hanno perso e i coniugi nelle medesime circostanze e quindi eh quello che io sto facendo è diffondere diffondere il più possibile eh non solo i suoi studi questo è il mio eh obiettivo prioritario ma anche quello che è successo in Italia negli ultimi anni. Esatto eh perché comunque eh non è questo il momento di riparlarne ma sulla sua scomparsa tu hai stai conducendo una battaglia di di giustizia perché è legata alla vicenda sanitaria che abbiamo vissuto e poi sicuramente ne torneremo ne torneremo a parlare ma sabato c'è questa giornata a Perugia eh primo convegno nazionale studi scientifici di frontiera sulla coscienza auto body experience e altri fenomeni straordinari dalle nove alle tredici dalle quattordici e trenta alle diciotto al Rasna Museo Multimediale della Civiltà Etrusca a Perugia proprio alla memoria dell'ingegnere Luciano Pedersoli fondatore di Evan Lab eh ci sarà un una la possibilità di ascoltare ricercatori di eh in qualche modo ricordare non solo l'opera di Luciano ma anche quello che sta portando avanti Evan Lab che succederà sabato Maria Grazia? Beh dunque allora intanto diciamo due parole sul Museo Multimediale della Civiltà Etrusca fondato da un carissimo amico l'ingegnere Vagni e di cui però Luciano era vicepresidente infatti l'ultima conferenza del 5 marzo ventidue verteva proprio su come secondo Luciano è anche questo amico ehm sulla base di reperti archeologici di documenti e gli etruschi potevano misurare il tempo e lo spazio quindi il luogo è un luogo anche a me particolarmente caro perché questo amico ha voluto che io che facevo già parte del comitato tecnico scientifico con i miei limitati mezzi eh che divenissi anche presidente onoraria del Museo Multimediale quindi una grande accoglienza una grande partecipazione allora il lavoro di Evala è andato avanti in questo anno poco più chiaramente eh manca la guida manca quello che coordinava che era partecipe di tutti i lavori però i gruppetti di ricercatori insomma ci stanno mettendo tutto l'impegno e tutto l'amore e il riconoscimento per il grande lavoro di Luciano quindi eh sta andando avanti più che altro il lavoro dell'ipnobe perché il ruolo di Luciano eh è stato assunto da un amico che poi fra l'altro è anche un medico eh quindi diciamo eh Luciano ha sempre detto dice io porto avanti la ricerca non sono un medico non sono in concorrenza con i medici anche se poi nell'ipnosi regressiva in modo particolare c'era poteva esserci benissimo un effetto anche di terapia però ripeto non cercato e non voluto eh quindi quel lavoro va avanti addirittura Evalab partecipa a un concorso il concorso Bigelov eh perché qui apro una parentesi chiaramente i mezzi economici di Evalab sono molto limitati eh quindi stiamo anche impegnandoci a avere dei finanziamenti sempre anche con l'aiuto di questo amico di Perugia che ha già avuto per il museo dei finanziamenti e quindi ci sta eh dando delle indicazioni. Allora i ricercatori sono tutti come ho detto tante volte di altissimo livello eh tutti eh convinti di quello che fanno hanno competenze molto molto vaste sono tutti ehm impegnati chiaramente in lavori eh lavori anche molto diversi eh cioè una eh la Valentina Ricci la dottoressa Ricci addirittura è una microbiologa è una chimico farmacologa eh poi eh Roberto Bartali che per esempio è eh uno storico è vero che lui si occupa più di della parte storica infatti il suo intervento sarà proprio su i documenti dei segretati del dei servizi segreti americani su eh il progetto Stargate cioè praticamente insomma gli americani utilizzavano l'ipnosi e mandavano in nobe i eh loro eh esperti senza però comunicare direttamente quindi la novità diciamo che Luciano ha messo a punto è proprio quello che durante l'ipnobe eh cioè l'obe dico brevemente per chi non lo dovesse sapere è l'auto body experience quindi attraverso questo metodo lui comunicava direttamente con chi era in in nobe lasciando cioè attive le corde vocali ehm naturalmente tutto registrato tutto verificato tutto anche pubblicato perché ci sono appunto pubblicazioni per review poi gli altri abbiamo addirittura diciamo un un nuovo simpatizzante di Eva Lab che è un ingegnere anche lui eh che non sarà presente perché è un un italiano ma lavora a Bruxelles quindi era un po' difficile insomma che lui potesse partecipare però ci sarà un video che sarà mandato e quindi poi gli altri tutti ora eh Alfredo Rossi che è un altro ingegnere eh il medico l'ho nominato Patrizio Caini che è anche un microbiologo eh Melloni un informatico ehm Ferrini che è uno statistico ma anche un esperto del del suono poi ecco chi non c'è lo voglio ricordare invece eh perché comunque è stato molto attivo è Marco Bilucaglia un ingegnere elettronico anche lui che fra l'altro è un peer reviewer e quindi insomma potrà darci una mano per le pubblicazioni perché eh altra cosa che dico sempre Luciano si è sempre interessato di questi studi ma chiaramente finché si è fuori dall'università non si pubblica in Italia quindi l'incontro con un ricercatore dell'università di Padova invece ha dato la possibilità di pubblicare e quando si pubblica su riviste scientifiche chiaramente si parla di scienza eh quindi tutto fatto secondo il metodo scientifico che fra le varie opzioni eh prevede anche la ripetibilità quindi queste ricerche questi studi sono stati poi replicati anche negli Stati Uniti e quindi un bel gruppo ripeto che lavora eh in modo volontario eh qui il laboratorio è no profit e quindi ancora di più ehm è sentita questa partecipazione perché non ci sono interessi economici e quindi e qui ricordo quello che diceva Luciano dice noi dobbiamo essere come il i cavalieri della tavola rotonda eh sì c'è un primus inter pares ma siamo tutti sullo stesso livello e tutti lavoriamo per uno stesso obiettivo cioè quello di capire di arrivare a sapere sempre di più perché noi non siamo ciccia come lui diceva ma siamo molto molto di più certo c'è ancora tanto da indagare ma lui ha lasciato materiale diceva questo ricercatore di eh Padova addirittura per ancora dieci anni di lavoro quindi andiamo avanti con eh ripeto io non sono Luciano eh anche se sono sempre stata al corrente ho rivisto con lui testi eh sempre partecipato però eh come dico sono una latinista quindi sì eh mi piace mi piace il metodo però poi di più non posso fare ma tutto quello che posso fare assolutamente per esempio cercare di comunicare di informare ecco quello lo sto facendo con grande passione con grande trasporto e con grande amore perché Luciano veramente è stato un grande lo lo definiscono in molti un genio insomma anche nell'ultima intervista che ho fatto è stato il giornalista a dire ma è un genio era un genio e allora ricordando sempre con affetto la figura di Luciano ricordiamo allora questo appuntamento l'ingresso è libero ci sono ancora posti per chi volesse venire sì 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 ci sono ancora posti perché eh si svolgerà nel teatro dell'edificio Sant'Anna a Perugia eh che alla alla base ha proprio il museo multimediale però la sala contiene una sessantina di posti quindi siamo già oltre eh questo numero per cui insomma saremo al teatro ma per eh i partecipanti non ci sono problemi ripeto l'edificio è lo stesso e poi a Perugia è anche molto molto nostro insomma e quindi chi volesse certo mi manda un messaggio eh o una mail e quindi lo aggiungiamo ai partecipanti ben volentieri eh tutti sono accolti anche perché insomma è chiaro che chi ehm interverrà eh chi verrà è già insomma interessato a certi temi però una cosa fammi dire Fabio allora io eh sono andata a incontrare anche Federico Faggin perché Luciano l'aveva incontrato diverse volte a Perugia e io no invece perché quando c'erano gli esperimenti eh mi scusami a Padova non andavo e lui era a Prato quindi sono andata a incontrarlo e lui mi ha detto io sto continuando a seguire il lavoro di Evalab poi abbiamo incontrato eh cioè ho incontrato anche ehm il dottor Citro che ho saputo essere in contatto con Luciano e anche lui insomma perché con lui abbiamo stabilito un'intesa assolutamente perfetta completa quindi c'è questo desiderio di capire cosa siamo oltre il corpo fisico e quindi insomma Evalab dà un contributo importante perché eh ripeto insomma segue un metodo che insomma diciamo essendo scientifico è assolutamente eh come dire insomma poco contestabile ecco diciamo così. Bene Evalab punto org dove trovate anche la locandina di questo appuntamento di sabato prossimo a Perugia perché è interessato chi ricorda innanzitutto ha seguito magari le nostre puntate e ricorda eh Luciano Pedersoli chi è appassionato delle tematiche dell'alto body experience delle cosiddette obe dei viaggi fuori dal corpo come potremmo chiamarli più volgarmente eh può appunto eh scrivere Evalab e appunto prenotarsi per andare con ingresso libero a assistere sabato a questa giornata a questo convegno. Grazie intanto Maria Grazia e a presto. Grazie a te Fabio e fammi dire una cosa che forse eh lo imbarazzerà. Allora io ringrazio pubblicamente lo farò chiaramente anche a convegno a parte tutti i ricercatori ovviamente gli amici chi mi è stato vicino ma anche Salvatore Milazzo cioè senza di lui il convegno non sarebbe stato possibile cioè ha fatto un lavoro tra l'altro mettendosi gratuitamente a disposizione che di finire incomiabile anche troppo poco. Eh quindi lo voglio ringraziare anche in questa occasione naturalmente te Fabio eh eh per il bel evento a cui ho partecipato a Monterone d'Arbia. Ehm è per me un conforto grandissimo un sostegno grandissimo sapere che ci sono questi amici che insomma mi sono mi sono vicini sono vicini a Evalab nel ricordo di Luciano nella volontà di diffondere e di andare avanti. Quindi grazie veramente di cuore. grazie a te per il tuo istancabile impegno mi unisco anch'io al ringraziamento di Salvo che è una delle persone più generose ma allo stesso tempo professionali che abbia mai conosciuto e che ci ha dato una grandissima eh mano eh organizzativa proprio per l'evento estivo che abbiamo fatto e davvero ha seguito che lo so perché eh spesso ci siamo sentiti al telefono fin dagli embrioni di questo convegno quindi so quanta passione quanta eh partecipazione ci ha messo e quindi è davvero riuscito in una grande impresa. Grazie, ne riparleremo presto, buona giornata. Grazie anche a te e a tutti i suoi ascoltatori.